Cari amici, ci troviamo in India, nello stato del Madhya Pradesh, nella città di Bhopal. È il 2 dicembre del 1984 e non c'erano avvertimenti della tragedia che la fabbrica di pesticidi della Union Carbide India LTD, UCIL, avrebbe scatenato quella notte maledetta. Una fuoriuscita di isocianato di metile chimico, che d'ora in poi chiamerò MIC, trasformò la città di Bhopal in una colossale camera gas. Facciamo un passo indietro. Negli anni 70 alla Union Carbide Corporation è stato chiesto di costruire un impianto per la produzione di sevin, un pesticida comunemente usato in tutta l'Asia. L'azienda ha costruito lo stabilimento a Bhopal per la sua posizione centrale e l'accesso alle infrastrutture di trasporto. L'impianto di Bhopal ospitava tre serbatoi interrati in acciaio inossidabile per lo stoccaggio di MIC liquido da 68.000 litri di capacità, le 610, le 611 e le 619. Nessun serbatoio poteva essere riempito per più del 50% della sua capacità e il serbatoio era pressurizzato con azoto gassoso a 1,3 atmosfere di pressione. La pressurizzazione consentiva di pompare MIC liquido fuori da ciascun serbatoio. Mesi prima della tragedia, la produzione del MIC era in corso e i serbatoi venivano riempiti. Secondo le regole, ciascuno dei serbatoi non poteva essere riempito con più di 30 tonnellate di MIC liquido, ma il serbatoio E610 ne conteneva 42 tonnellate. Questo problema costrinse Lucia Iel a interrompere la produzione di MIC a Bhopal e l'impianto venne parzialmente chiuso per manutenzione. Il primo dicembre venne fatto un tentativo di ripestinare il funzionamento del serbatoio difettoso. Il tentativo fallì. In pratica, quel pomeriggio, in uno dei tre serbatoi, la temperatura si innalzò progressivamente, generando un forte aumento della pressione, che andò a sollecitare a valle il sistema di sicurezza, e la tubazione di trasferimento dei gas residui al bruciatore di emergenza era interrotta a causa di fenomeni corrosivi non adeguatamente controllati e rimediati. La sera del 2 dicembre 1984, poco dopo l'inizio del turno notturno, un operatore stava effettuando una pulizia delle tubature nell'impianto dove era stoccato il MIC. Per qualche ragione il getto d'acqua ad alta pressione ruppe una paratia. All'insaputa dell'operatore, una perdita d'acqua da una valvola difettosa, le valvole non venivano più sostituite regolarmente, raggiunse le cisterne di MIC. Nelle due ore successive l'acqua penetrò in una delle tre cisterne sotterranee nelle quali era stoccato il composto, quella denominata E610, nella quale si trovavano 42 tonnellate di MIC. Il contatto tra l'acqua e il MIC diede luogo a una reazione che sviluppò calore, fece aumentare gradualmente la temperatura del liquido fino a portarlo a ebollizione, causando un rapido aumento della pressione all'interno dei serbatoi. Alle 22.30 i tecnici che presenziavano l'impianto notarono che i manometri della cisterna segnavano una pressione di 5,5 volte superiore alla norma. Alle 23.30, quando nell'aria si iniziò ad avvertire il pungente odore di cavolo cotto proprio del MIC, si decise di indagare la presenza di una perdita. Nessuno tra il personale aveva però piena consapevolezza della pericolosità del gas stoccato sottoterra. Sicché, solo dopo la mezzanotte, quando i manometri segnavano 4 atmosfere, un valore 27 volte più alto della norma, venne dato l'allarme, con l'attivazione delle sirene dello stabilimento che venne frettolosamente evacuato. I vapori di reazione furono rilasciati dalla valvola di sicurezza della cisterna all'interno dell'impianto. A luna di notte si udì un forte boato provenire dall'impianto, quando una valvola di sicurezza cedette, lasciando di vampare un pennacchio di gas MIC. La polizia iniziò a ricevere chiamate dalla zona circostante lo stabilimento, i cui residenti stavano manifestando crisi respiratorie e tentavano di darsi alla fuga. Vennero allertati gli ospedali e furono richiesti chiarimenti alla fabbrica, che diede però indicazioni vaghe e contrastanti, affermando dapprima che il gas era ammoniaca, poi fosgene e infine isocianato di metile, senza però precisarne la pericolosità. Alle due di notte, osservando che la pressione nella cisterna ormai semivuota era tornata a livelli normali, i tecnici dissero alle forze dell'ordine che la perdita era stata riparata. In poche ore, le strade di Bhopal furono disseminate di cadaveri umani e di carcasse di bufali, mucche, cani e uccelli. Si stima che circa 3.800 persone siano morte immediatamente. Secondo i dati del Centro di Ricerca Medica Indiana, la perdita di gas MIC ha ucciso più di 15.000 persone, mentre la stima di Amnesty International parla di oltre 25.000 vittime. Circa mezzo milione di sopravvissuti fu colpito dai devastanti effetti immediati derivanti dall'esposizione al gas tossico. Ulcere, fotofobia, problemi respiratori, anoressia, dolore addominale persistente, problemi genetici, nervosi, alterata memoria visiva e audio, ridotta capacità di ragionamento, e molto altro. A seguito di questo immane disastro, il 4 febbraio 1989, la Union Carbide pagò 470 milioni di dollari per i danni causati dal disastro, a fronte di una richiesta iniziale di 3 miliardi di dollari. Nel luglio 2004, la Corte Suprema Indiana ordinò al governo di risarcire le vittime e i loro parenti tramite un fondo di compensazione di 330 milioni di dollari. Oggi, a 38 anni dopo il disastro, la zona del sito industriale, circa 70 acri, non è ancora stata completamente decontaminata e ogni anno svariati bambini nascono malformati o presentando gravi patologie, a causa dell'acqua, della quale è stato certificato da oltre 20 anni che contiene solventi clorurati e altre sostanze dannosissime, e a causa dei fanghi tossici, che ancora giacciono indisturbati a pochi metri dalle case di alcune persone che evidentemente non possono permettersi di andare a vivere altrove. Il retroscena della tragedia di Bhopal risiede nel grande fallimento delle misure di sicurezza e nella riduzione di personale e costi di manutenzione. In teoria, i serbatoi erano muniti di impianti di refrigerazione, taratti teoricamente a 0 gradi centigradi, di apparecchiature per il controllo della temperatura, della pressione, di un impianto specifico per mantenimento del materiale sotto atmosfera di azoto a circa 1,3 atmosfere di pressione. Inoltre, erano presenti delle valvole di sicurezza, con sfogo, in una speciale camera di compensazione e lavaggio dei gas, con una soluzione neutralizzante di idrossido di sodio. A sua volta, la camera di lavaggio era collegata con tubazioni a una torcia di incenerimento dei gas residui, eventualmente ancora presenti, a monte della valvola di uscita per l'emissione dei residui in atmosfera. In pratica, l'impianto di refrigerazione era stato staccato, l'azoto si trovava a una pressione pari a un decimo di quella prevista di 1,3 atmosfere. I misuratori di pressione della valvola di collegamento dei tubi al serbatoio erano difettosi e l'acqua poteva penetrare, andandosi a miscelare con il mic contenuto nel serbatoio. La pompa di ricircolo della soluzione di idrossido di sodio, non controllata di recente, non era funzionante e la tubazione di trasferimento dei gas residui al bruciatore di emergenza era interrotta a causa di fenomeni corrosivi causati dall'elevato quantitativo di acido cloridrico dovuto a un'eccessiva quantità di fosgene residuo nell'impianto. La tragedia di Bhopal rappresenta ancora oggi il più immane disastro chimico della storia per gravità, estensione territoriale e temporale degli eventi.